Grande spettacolo nel weekend valtidonese dedicato al triathlon. Alla diga del Molato, sotto la magistrale regia del Piacenza, triathlon vivo, due giornate di gare di notevole spessore tecnico. Nello sprint del sabato trionfo di Leonardo Ballerini del Raschiani Triathlon, atleta pavese Mattim che parla ovviamente piacentino. E della nostra città è anche Aaron Bertoncini, proprio del Trivivo, che si è aggiudicato il titolo regionale di categoria Youth B. Tra le donne vittoria della Bresciana Elisa Battistoni davanti alla piacentina Alice Saltarelli. Nella 70.3 della domenica, quindi 1900 metri a nuoto, 82 km in bici ed altri 20 di corsa, è Alessandro Robustelli a sbaragliare la concorrenza. Atleta parmense, ma anche egli tesserato per il Trivivo, un successo di ottimo auspicio in vista dell'Ironman di Zurigo, ormai alle porte. In campo femminile, vittoria di Claudia Ciaudano con un tempo spaventoso e un vantaggio sugli inseguitrici superiore ai 20 minuti. In campo femminile, vittoria di Carla Ciaudano con un tempo spaventoso e un vantaggio sugli inseguitrici superiore ai 20 minuti.